amica mia mi avete chiesto di scrivervi spesso e soprattutto di parlarvi delle cose che ho visto mi avete anche pregato di frugare tra i miei ricordi di viaggio per cercarvi quei brevi aneddoti sentiti da un contadino incontrato per caso da un oste e da un tale conosciuto strade facendo che lasciano nella memoria una sorta di segno del paese con un paesaggio buttato giù in pochi tratti una breve storia raccontata in poche frasi voi pensate si possa rendere il vero carattere di un paese farlo vivere renderlo visibile drammatico va bene cercherò di farlo come volete voi così di tanto in tanto vi manderò una lettera nella quale non parlerò né di voi né di me ma soltanto dell'orizzonte e degli uomini che vi si muovono e comincio subito mi sembra che la primavera sia un tempo in cui bisogna mangiare e bere paesaggio è la stagione dei fremiti come l'autunno è la stagione dei pensieri in primavera la campagna vi eccita in autunno vi penetra nel cuore quest'anno ho voluto respirare fiori d'arancio e sono partito per il mezzogiorno quando tutti venivano via ho lasciato monaco città di pellegrini rivale della mecca e di gerusalemme senza lasciare un soldo nelle tasche altrui e mi sono arrampicato in alta montagna passando sotto gli alberi dei limoni degli aranci sotto gli olivi mi è mai capitato di dormire amica mia in un aranceto in fiore l'aria che deliziosamente vi si respira è la quintessenza di tutti i profumi quel sentore violento e dolce saporoso come una ghiottoneria sembra fare tutt'uno con noi impregnarci inebriarci illanguidirci metterci nella carne un torpore sonnolento sognante si direbbe un oppio ma preparato dalle fate non dai farmacisti è un paese di profondi anfratti i dorsi delle montagne sono intagliati incavati dappertutto e in quelle pieghe sunuose sorgono vere e proprie foreste di limoni di tratto in tratto là dove la valle scocesa si arresta a una specie di gradino si trovano serbatoi costruiti dall'uomo per conservare l'acqua dei temporali sono grandi buche dalle pareti lisce chi vi cadesse dentro non avrebbe niente cui appigliarsi me ne andavo a spasso per uno di quegli anfratti guardando attraverso il fogliame i frutti vividi ancora attaccati ai rami quella stretta gola rendeva ancor più penetrante il greve sentore dei fiori l'aria là dentro pareva più densa mi sentii stanco e cercai in giro un luogo dove sedermi vidi scivolare tra l'erba qualche goccia d'acqua sicché pensai che a pochi passi vi fosse una sorgente mi arrampicai un po più in alto per cercarla invece mi trovai sul bordo di uno di quei grandi e profondi depositi sedetti a gambe incrociate rimasi pensieroso davanti a quella buca che pareva piena d'inchiostro tanto era nero il liquido che vi stagnava giù in fondo attraverso i rami scorgevo come macchie luminosi accecanti brandelli del mediterraneo ma lo sguardo tornava sempre a posarsi su quel grande scuro pozzo che non pareva abitato da nessuna delle bestie che stanno nell'acqua tanto immobile era la superficie all'improvviso una voce mi fece sobbalzare un vecchio signore in cerca di fiori quella contrada per gli erbolisti è la più ricca d'europa mi chiese siete per caso un parente di quei poveri bambini lo guardai stupito quali bambini signore? parlava imbarazzato e con un inchino disse vi chiedo scusa siccome vi ho visto così assorto davanti a questo deposito ho creduto pensasti a quel dramma spaventoso che è accaduto qui allora vogli sapere tutto e lo pregai di raccontare la storia è piuttosto cupa ed estraziante amica mia e al tempo stesso piuttosto banale non è un fatto di cronaca non so forse devo attribuire l'emozione che provai al modo drammatico con il quale mi fu raccontato forse allo spettacolo delle montagne forse al contrasto tra la gioia del sole e dei fiori e quella buca nera micidiale fatto sta che rimasi con il cuore stretto e i nervi scossi da quel racconto che non escludo faccia anche a voi chiusa nella vostra stanza lontana dal luogo della tragedia un effetto meno terribile e meno straziante accadde in primavera uno di questi ultimi anni due ragazzetti andavano spesso a giocare sul bordo di quella cisterna mentre il loro precettore sdraiato sotto un albero leggeva un libro un pomeriggio molto caldo un grido acutissimo destò l'uomo che sonnecchiava uno sciacquio e un improvviso schizzare d'acqua smossa da una caduta lo fece balzare in piedi il più piccolo dei ragazzetti quello che aveva undici anni urlava accanto al serbatoio la superficie dell'acqua appena smossa si agitava ancora dopo essersi richiusa sul più grande che vi era caduto dentro mentre correva lungo il bordo di pietra persa la testa senza ripensarci senza riflettere sul da farsi il precettore si gettò nell'acqua e non riapparve più perché si era fracassato il cranio contro il fondo in quello stesso momento il ragazzetto tornato a galla agitava le braccia tese verso il fratello allora l'altro si sdraiò per terra si allungò tutto mentre il fratello tentava di nuotare di avvicinarsi alla parete della cisterna ma impresto le quattro manine poterono afferrarsi stringersi con tratte insieme i ragazzi provarono così la grande gioia di sentirsi salvi e il soprassalto del pericolo scampato ma il più grande cercava di salire e non poteva tanto dritta era da parete e il più piccolo troppo debole scivolava lentamente verso la buca allora rimasero immobili presi di nuovo dallo spavento e aspettarono il più piccolo stringeva con quanta forza aveva le mani del più grande e piangeva nervoso ripetendo non ce la faccio a tirarti su non ce la faccio a un tratto cominciò a gridare aiuto aiuto ma la sua vocina non riusciva ad andare al di là del fitto fogliame che si incurvava a cupola su di loro rimasero a lungo così ore e ore uno di fronte all'altro quei due bambini con lo stesso pensiero la stessa angoscia con la paura terribile che uno dei due allo stremo disserrasse le mani fattesi deboli e chiamarono chiamarono ma in vano alla fine il più grande tutto tremante di freddo disse al piccolo non ne posso più sto per lasciarmi andare addio fratellino e l'altro col cuore in gola gli diceva ancora no ancora no aspetta venne la sera una sera calma con le stelle che si specchiavano nell'acqua il più grande che non ne poteva più disse lasciami una mano ti darò il mio orologio era stato regalato da pochi giorni e da quel momento non aveva più pensato ad altro riuscì a prenderlo lo tese al fratello che singhiozzando lo posa sull'erba accanto a sé ormai era notte i due sventurati bambini sfiniti riuscivano appena a tenersi l'uno afferrato all'altro il più grande sentendo di essere perduto mormorò ancora una volta addio fratellino dai un bacio al babbo e alla mamma le dita paralizzate si aprirono piombò giù nell'acqua e non riapparve il più piccolo solo cominciò a chiamare con quanto fiato aveva paul paul ma l'altro non tornava allora si slanciò correndo per la montagna cadendo sulle pietre sconvolto dalla più grande angoscia che possa stringere un cuore di bambino e arrivò bianco come un morto nel salotto di casa sua dove i genitori aspettavano di nuovo si sperse mentre li conduceva verso quel cupo serbatoio non trovava la strada alla fine riconobbe il luogo eccolo là sì eccolo là fu necessario vuotare la cisterna anche se il padrone non voleva perché aveva bisogno d'acqua per i suoi limoni i due corpi furono ritrovate soltanto il giorno dopo vedete amica mia è soltanto un fatto di cronaca ma se aveste visto quella buca anche voi sareste rimasta straziata come me fin nel profondo del cuore al solo pensiero di quell'agonia di un bambino appeso alle mani del fratello di quell'interminabile lotta di due piccini abituati solamente a ridere a giocare e di quel semplice particolare il dono dell'orologio io mi dicevo che la sorte mi salvi da ricevere mai un simile dono non c'è niente di più spaventoso di un ricordo legato a un oggetto familiare che non si può lasciare pensate ogni volta che il sopravvissuto toccherà l'orologio quel sacro orologio vedrà la terribile scena quell'acqua quella parete quella superficie calma il viso sfatto del fratello ancora vivo eppure ormai perduto come se fosse già morto e per tutta la sua vita ogni momento quella visione sarà lì pronta a riapparire ogni qual volta sfiorerà appena con un dito il taschino dell'orologio rimasi rimasi triste fino alla sera salendo sempre più in alto lasciai la zona degli aranceti per quella dove crescono soltanto gli olivi poi lasciai anche la zona degli olivi per quella dei pini attraversai una valle pietrosa raggiunsi le rovine di un antico castello costruito a quanto si dice nel decimo secolo da un capo saraceno uomo saggio che si fece battezzare per amore di una giovane intorno a me non c'erano che montagne e davanti il mare un mare con una macchia che appena si distingueva la corsica o meglio l'ombra della corsica ma sulle cime insanguinate dal sole morente nel cielo aperto e sul mare in tutto quel superbo orizzonte che ero venuto ad ammirare non vedevo altro che due poveri bambini uno sdraiato sul bordo di una buca piena d'acqua nera l'altro immerso fino al collo stretti per le mani piangenti uno davanti all'altro perduti e mi pareva continuamente di udire una voce debole sfinita a ripetere addio fratellino ecco il mio orologio amica mia questa lettera vi sembrerà molto lugubre cercherò di essere più allegro un'altra volta di usci si 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 Grazie a tutti